Quante storie che devi fare, io sabbia che ho altri cosa che vuol dire mettere a paglia che sia il foglio, che ormai siamo maturi, ho provato altrimenti, voi provare anche altri? Voi non spodassi, vatelo! Qua tra il pubblico, che se in qualche dunque c'è qualcosa da dire, lo dica subito e se no al tabba per sempre. Allora continuiamo la cerimonia. Leopoldo senza un soldo, vuoi tu prendere per sposa la qui presente Palmira senza una lira? Sì, lo voglio! E tu Palmira senza una lira, vuoi tu prendere per sposo qui Leopoldo senza un soldo? Sì, sì che lo voglio ciò, con la vergine. Allora tira fuori te, venga via! E non vuoi vedere caro? Ah! Guarda il mio figlio di direzione, le tendine del cesso! Eh grazie alla vada! Eh caro! Ah 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 che bea! Mai è tenata su! Signore! Signore! Io l'amo suoi ori! E intanto vedi chiaro... E intanto vedi chiaro... Vedi chiaro morti da fame! A tutti gli spettatori di Televenezia, un saluto dal gruppo giovani della Sagra di San Leopoldo! Alla prossima! Grazie a tutti.